Se da un lato i sindacati e le istituzioni cantano vittoria, dall'altro lato il salvataggio in extremis dei 34 lavoratori interinali del call center Exicare di Bazzano, a rischio licenziamento e trasferimento a Roma, nasconderebbe un'insidia. Una vicenda, quella dei dipendenti del call center ancora avvolta nella nebbia, mentre anche la campagna elettorale vi entra a gamba tesa, a destra e a sinistra. La notizia ufficiale, diramata nei giorni scorsi dai sindacati, è che è stato scongiurato il trasferimento a Roma dei 34 dipendenti del call center Holy System Start Exicare. Dopo quattro tavoli al Ministero del Lavoro c'è finalmente l'accordo. Nessuna smobilitazione, almeno per ora, del call center, nei quali lavorano in tutto 300 persone. Secondo i sindacati nazionali e territoriali e secondo le RSU, i CARE non cederà tutto il personale interessato alla clausola sociale, ma si farà carico di saturare le ore di lavoro con altre attività. In sostanza arriveranno commesse diverse da quelle di Acea, sulle quali saranno impiegati 34 lavoratori a rischio. Una mossa che ha evitato il trasferimento a Roma già dal prossimo 18 febbraio. Infatti la commessa relativa da Acea è passata alla società call and call e con l'applicazione della clausola sociale, l'azienda avrebbe riassorbito il personale precario, obbligandolo però a spostarsi. Ed è proprio sulla clausola sociale che si è sviluppato un botta e risposta tra sindacati, con la CISAL comunicazione guidata dal sindacalista Venanzio Cretarola, che fa notare come, dietro all'ottima notizia per il salvataggio dei lavoratori, si nasconda un pericolo. In realtà i 34 posti di lavoro sarebbero per Cretarola stati trasferiti a Roma, in quanto nel cambio di gestori della commessa Acea la legge sulla clausola sociale è stata aggirata con un bando di gara che nessuno aveva letto e che inevitabilmente avrebbe creato questo problema. Ancora una volta, cioè, conclude Cretarola, la corretta applicazione della clausola sociale non è stata rispettata.